Buongiorno a tutti con una panoramica per ricordarvi che abbiamo disponibili gli ultimi pezzi di gomitoloni Van Gogh, guardate quanto sono giganti e meravigliosi. Sono gomitoloni ricordo da 200 grammi per ben 700 metri di microfibra mista a un filo di lurex elegantissimo e i colori disponibili ve li faccio vedere subito, morbidissimi, super eleganti e super economici. Con un gomitolone realizzate un maioncino taglia da bimbo bimba e invece con due fate un capo da donna. Parliamo di gomitoloni ripeto a marchio mistrico filati, bellissimi, ultimi pezzi, ultimi colori ancora disponibili tra cui il meraviglioso fucsia, il blu notte con lurex tono su tono che sembra veramente un cielo stellato. Poi andiamo al color ocra, meraviglioso, il color grigio, il rosso, pochissimi pezzi rimasti, il bianco con questo lurex opalescente, ultimo pezzo in questo momento disponibile di bluette, questo meraviglioso blu royal, poi abbiamo il panna che abbiamo visto all'inizio, il nero con il lurex argentato, il bordeaux, eccolo qui, il grigio silver ed il color beige sabbia. Quindi andate a sbirciare sul nostro sito questi meravigliosi e giganteschi gomitoloni, ultima chiamata per approfittarne e non lasciarvi sfuggire l'occasione. Li trovate su merceriaitaliaartisan.com. Grazie a tutti e alla prossima!